Va bene, va bene, sono felicissimo di essere qui, è un'emozione che non so descrivere. Che dire, eccoci qua, poi vedremo dopo. Grazie mille. Buongiorno, come va? Allora, buongiorno signore e signori, io sono Lissowska Elena, sono una delle organizzatrici di questo enorme e grandissimo evento internazionale di aziende M-Goldex, quindi siamo proprio all'inizio, in partenza, via M-Goldex, Golded Money.